La prossima settimana, stavolta per davvero, sarà quella decisiva per il futuro in un senso o nell'altro. Del Teramo, da qui ormai non si torna più indietro. Martedì ci sarà la discussione al Tar rispetto alle posizioni dei Biancorossi e del Campobasso che hanno inoltrato, vedendole accolte entrambe, istanza cautelare al Tribunale Amministrativo per, quantomeno, provare a giocare le ultime residue speranze di salvare il professionismo. Innanzitutto partiamo con un assunto. In caso di accoglimento della richiesta, quindi con l'annullamento dei provvedimenti di Covizoc, Collegio di Garanzia dello Sport e il reinserimento del Diavolo in Serie C, tutto quanto mancava nella domanda originaria dello scorso 22 giugno andrebbe sanato. Questo per sgombrare il campo da un ritorno indolore nel professionismo. A quel punto, infatti, ci sarà da mettere mano al portafoglio e ripianare. Quanto c'è da ripianare? È chiaro che questa sarebbe comunque la soluzione migliore. Il parco giocatori, quelli sotto contratto, ovviamente sarebbe salvo e la categoria mantenuta. Con la Lega di terza serie, che a quel punto si troverebbe venerdì 5, a svelare i calendari mettendo le due compagini, Teramo e Campobasso, nei gironi, che saranno ufficializzati sempre nei prossimi giorni e comunque prima della stesura degli impegni domenicali. Poi si potrebbe partire con la scelta di allenatore e direttore sportivo. Pokesci e Manfra sono da tempo impredicato di essere queste due figure mancanti. E infine con la costruzione di una rosa che avrà l'unico compito di portare a casa una salvezza difficilissima, visto il ritardo accumulato in queste settimane. Le altre compagini sono già in ritiro e stanno completando l'allestimento degli organici, a cui manca davvero poco per essere messi a punto. Il Teramo, qualora conservasse la serie C, dovrebbe farlo in pochi giorni. Così come la preparazione, che allo stato attuale non potrebbe che essere in città per accelerare i tempi. Anche considerando che dalla discussione al TAR in poi mancherebbero 19 giorni al primo impegno ufficiale in Coppa Italia e 26 al primo impegno in campionato. Discorso diverso invece se il TAR dovesse rigettare le richieste delle due escluse dalla Lega Pro. La terza serie a quel punto troverebbe Fermano e Torres a completare le 60 e per il Teramo si aprirebbero le porte del dilettantismo. Con lo svincolo d'ufficio dei calciatori attualmente tesserati. E col primo cittadino che dovrà allestire in poco tempo il bando per le manifestazioni di interesse. Il contributo a fondo perduto sarebbe di 300 mila euro. Cosa simile in queste ore sta accadendo a Catania. La Federcalcio ha concesso la possibilità di iscrivere il Catania SSD, recentemente costituito ed affiliato alla massima divisione del calcio dilettantistico. Soltanto una volta valutata positivamente la documentazione al completo, la federazione procederà con l'iscrizione in sovrannumero della squadra rosso-azzurra in serie D. La Prodo del Catania in sovrannumero porterà il numero delle società a quota 169. Numero già elevato e col Giorgione che punta al ripescaggio anch'esso. La tempistica dunque stavolta farà tutta la differenza del mondo. Il diavolo ci prova. Se ci riuscirà potranno dirlo solo i giorni che verranno.